quando ogni giorno ci capita di vedere una persona delle forze dell'ordine lo stiamo osservando un semplice abito da lavoro ma la rappresentazione massima della difesa di importanti valori come l'uguaglianza la libertà l'onestà il rispetto che dobbiamo a questi uomini e donne non è un obbligo ma un semplice dovere perché ognuno di essi manifesta l'orgoglio di appartenere a questa splendida nazione e onorare ognuno di noi ora siamo liberi ora siamo liberi ora siamo liberi grazie a tutti 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 grazie a tutti